prima cosa vi ringrazio di essere qui un saluto a tutti quanti voi e certamente al pubblico a casa che seguirà poi sulle pagine ufficiali io credo che tutto sommato anche con le due sconfitte in campionato sia stato questi 55 giorni che hanno stati un percorso molto importante per l'angri da ricordare che siamo partiti enormemente in ritardo penso che abbiamo allestito una squadra di tutto rispetto abbiamo ottenuto dei risultati subito imminenti poi si sa benissimo nel calcio che si può pagare lo scotto di una preparazione affrettata e quindi poi nella fase iniziale del campionato non che abbiamo ostendato perché diciamo che abbiamo ostendato diciamo bugie come solito dire nel calcio ci teniamo la prestazione non il risultato non è così queste sono sono frasi fatte io ritengo che sia giusto il risultato anche perché si troviamo in una piazza importante come angri dove la gente vive di calcio e di san giovanni dove dal primo momento ha dimostrato un forte calore verso la squadra è un senso di appartenenza che vi garantisco in tanti anni di calcio non me ne vogliano i miei compaesani a feste della mare ma anche la USA di serie B io non l'ho vissuta da dirigente non ho notato questo colore quindi sta gente va premiata apprezzata e noi dobbiamo fare di tutto affinché sta gente la domenica vada a casa soddisfatto il risultato perché quando si dice i giocatori hanno sudato la maglia ma vengono pagati per questo vengono pagati per questo ma il loro compito invece è divertire e mandare i tifosi a casa contenti felici di aver assistito sia un bel gioco sia un bel risultato che da premettere in primis che Newton è un presidente importante dove un passionale un istintivo un emotivo un presidente ultras io lo definisco perché lui vive in un modo viscerale la domenica pomeriggio lo conosco da tanti anni a tanti difetti può avere tanti difetti ma un pregio fondamentale che è una persona per bene è una persona onesta e si tiene sempre a fare bella figura cosa posso dire del progetto su angli tu mi poni la domanda nel dire ci stanno dei fondi certamente se qui i fondi servono per rendere sempre più accogliente il nuovo benvenga e penso che di comune accordo con l'amministrazione comunale con i funzionari con con i gestori del campo penso che questo progetto sia una cosa importante per la città di angli per i tifosi di angli e per noi società sportiva angli che non dimendichiamo una cosa noi in questi 55 giorni stiamo cercando di strutturare una società non che la vecchia società non fosse strutturata però tu quando è hai l'eredità di una società che ha fatto bene ha vinto campionati di eccellenza ha mantenuto la categoria ha fatto sacrifici enormi e tutto quanto tra mille difficoltà bisogna dare merito e atto anche alla vecchia proprietà di aver operato nel bene noi ci auguriamo di eguagliare e per il bene della città superare quello che la vecchia di licenza ha messo in essere quadrante questa cosa vuole significare che certamente siamo in un anno di transizione dove il nostro obiettivo principale è quello di mantenere la categoria e poi man mano ci vede la sticella va alzata pian piano noi il nostro primo obiettivo ma non me ne vogliano ecco li ho loggiati un momento fa non me ne vogliano i vecchi dirigenti l'angli l'anno scorso si è salvato con i play out io ritengo che il primo obiettivo che noi dobbiamo avere è salvarsi senza l'assilo dei play out quindi quello è il primo traguardo principale di questa società per fare giusto un attimino un passo avanti poi penso che nella struttura calcistica abbiamo cercato di inserire degli under importanti non lo sappiamo tutti quanti che gli under hanno bisogno di un determinato periodo di assestamento di crescita io vengo dal settore giovanile ho fatto tanto settore giovanile non chi le prime squadre però i ragazzi sono così oggi te lo danno domani nella giornataccia bisogna essere noi dirigenti a mantenerli su e andare avanti per la loro strada che è una strada di crescita e che poi potenzialmente sono il futuro della società perché noi abbiamo pensato cercato di prendere i under che poi diventassero di proprietà li abbiamo fatti dei biennali abbiamo cercato in tutti i modi di portare prima uomini e formarli da uomini e poi i toccatori non cadiamo nella solita retorica dire cioè muovere appunti a questi ragazzi penso che non non lo meritano certamente non meritano l'elogio per i risultati ma bisogna stargli vicino fargli capire che la piazza è importante e la prestazione penso che ci sia stata non sia stata ottimale però diciamo che non è che abbiamo sofferto il matera qualcosa di buono e non voglio andare nei particolari perché non voglio dare alibi a nessuno perché ritengo che si cominciamo a parlare di fuorigioco calcio di rigore diamo diamo degli alibi che secondo me non è non è così nel calcio non bisogna dare alibi a nessuno noi come società abbiamo messo a disposizione del mister una squadra diciamo voglio dire discreta ecco non voglio non sono abituato a auto proclamarmi o come dire mettere in evidenza il lavoro no per l'amor del cielo abbiamo dato una squadra diciamo me buona con ottimi giocatori poi è normale che dire venite l'amalgama un tecnico che secondo me della categoria la conosce quindi dobbiamo avere solo pazienza ad aspettare che quel pizzico di fortuna che abbiamo avuto nella fase di coppa italia secondo me la lo stiamo pagando in campionato se si ferma si si equipara un attimino tra sfortuna e fortuna penso che il risultato sia dalla nostra parte grazie a tutti